Che fate? Ok, allora Dottor Gerardi, Dottor Gerardi, Massimiliano Gerardi, Presidente Ancl, siamo ovviamente a Laura, qui dopo questo torneo ormai in divisa in borghese perché è stato un successo al di là della partita. È stata una bellissima manifestazione, io faccio le veci del nostro Presidente dell'Anc, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro che vi porge i suoi saluti, è venuta stamattina anche la Presidente dell'Ordine di Torino, Luisella Fassino, abbiamo avuto anche il Presidente dell'Associazione dei Giovani Consulenti del Lavoro perché ci tenevamo come categoria a essere vicini all'Ail. Trovo che sia stata un'esperienza molto 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 bella e quando ho chiesto ai nostri colleghi di partecipare tu sai bene che per me 11 erano pochi perché siamo più di 700 iscritti a Torino e volevano praticamente giocare tutti, uomini e donne. Pertanto crediamo che questo primo anno sia andato molto molto bene, vorremmo fare ogni anno di più e lo faremo di sicuro. Ringraziamo prima di tutto te Massimo perché è partito tutto da te, da un'idea che mi ha visto subito sognante e voglioso di portare dei risultati per l'Associazione e basta. Il nostro ruolo di consulenti del loro per una volta non è soltanto quello di far tornare i conti con l'occupazione e di fare i giusti contratti di lavoro ma è quello di sostenere dei progetti che sono assolutamente validi e stare vicino oltre all'Associazione italiana contro le lucemie anche al progetto Marconi che fa dei corsi di formazione che per noi sono assolutamente utili. Grazie.